mi chiedo subito quando comincia la poesia contemporanea italiana cioè entro quale perimetro cronologico possiamo collocare ciò che lo storico della letteratura italiana intende per poesia contemporanea la domanda non è così banale visto che i corsi di letteratura contemporanea nelle università partono o dal dopo l'unità d'italia oppure dopo la seconda guerra mondiale rispondo allora che la poesia contemporanea comincia a partire dal 68 e cioè comincia con chi esordisce a partire dal 68 e poi nei decenni successivi fino a oggi in realtà i primi esordi importanti si collocano nella metà degli anni 70 sto parlando di maurizio cucchi milo de angelis cesare viviani ma diciamo così che la grande faglia simbolica è il 68 e questo significa cosa anche in poesia non solo in poesia ma anche in poesia rifiuto dei padri quindi rifiuto della tradizione precedente e soprattutto anche che per la prima volta nella scena culturale poetica italiana entra una generazione che è nata dopo le due guerre mondiali e questo non è solo un fatto come dire anagrafico ma è qualcosa di molto più importante ovvero è una mutazione antropologica come la detta per paolo pasolini ripetutamente nei primi anni settanta e come lui la pensavano un po tutti gli intellettuali suoi coetanei dunque da un punto di vista critico questo quarantennio quasi cinquantennio di poesia è stato fino a poco tempo fa per la critica un buco nero nel senso che le cose certe erano tutte di segno negativo ovvero che c'erano ormai troppi poeti che questi troppi poeti scrivevano tutto il contrario di tutto e che quindi diciamo così che era impossibile delineare un canone individuare delle filiere delle genealogie insomma era impossibile mappare il territorio della poesia contemporanea italiana allora se è impossibile mappare il territorio della poesia contemporanea in generale figuriamoci in pochi minuti quindi mi limiterei ad indicare due linee due grandi comportamenti della scrittura poetica contemporanea il primo che è senz'altro più caratteristico della fase immediatamente post 68 cioè decennio 70 e direi che i suoi tratti tipici sono tutto ciò che va contro i guardaline della norma per usare uno slogan di una famosa radio libera di quegli anni cioè radio alice ovvero sperimentalismo regolatezze le più varie scritture come si diceva allora selvagge cioè sciatte perché più sciatte sono più autentiche e più anti borghesi sono il che significa che tutti i codici stilistici tramandati dai poeti del passato anche recente che sono poeti del passato ma recente sono saputi rinnovare ecco vengono come dire o ignorati o rifiutati o spappolati quindi dimentichiamoci in questo tipo di poesia e di postura stilistica le rime di indecassire eccetera non c'è niente di niente l'antologia che prima di tutte meglio di tutte fotografa lo spirito di questa di questo tempo si intitola il pubblico della poesia esce nel 1975 ma viene stata è stata ristampata anche recentemente i suoi curatori sono giovani critici che poi diventeranno piuttosto famosi ovvero alfonso berardinelli e franco cordelli in questa antologia io trovo ad esempio una poesia dei da ciamaraini poetessa per caso in quegli anni che dice esattamente così che lo stile la sofisticazione della forma è una cosa che riguarda il potere in questa stessa antologia io trovo una famosa a quel tempo ma a tutt'oggi diciamo così una sorta di bandiera dello spirito ribelle di quegli anni il suo autore è eros alesi un poeta romano di ciampino e nasce nel 1951 e muore suicida dopo droga alcol eccetera un iter classico per certe figure di quegli anni nel dopo 21 anni a 21 anni è una poesia in cui l'io del poeta si rivolge al padre al proprio padre e vorrei leggervi alcuni versi direi più che versi alcune righe perché come vedrete versi non sono e tu che ora sei tu e padre tu che ora sei nei pascoli celesti nei pascoli terreni nei pascoli marini tu che sei tra i pascoli umani tu che vivi nell'aria che avevo 13 14 anni quando ti vedevo che vedevi di perdere il tuo ruolo che avevo 15 anni e mezzo quando vedevo che tu vedevi i litri di vino e le bottiglie di cognac aumentare spaventosamente eccetera eccetera come si vede come si vedrà insomma è una poesia non diversi con righe molto lunghe in cui non c'è niente che possa far pensare a una poesia però secondo me secondo molti è un testo molto emozionante molto forte che entra diciamo così che buca che buca e uno potrebbe dire beh un testo così non assomiglia niente in realtà un modello preciso c'è di questa poesia ed è del poeta americano beat allen gisberg è un poema anche questo con queste strutture ripetitive che si rivolge non al padre ma alla madre ma più o meno la stessa cosa che si intitola caddisci allora per concludere su questo punto magari in questo tipo di poesia i modelli o si rifiutano oppure i modelli cambiano radicalmente non più un poeta italiano non più montale eccetera ma ad esempio in questo caso allen gisberg e anche se poi vediamo certi ridi in certe serate di poesia di quegli anni diciamo così che assomigliano più a un concerto rock a una woodstock che non a una serata normale di poesia o poi c'è una seconda modalità che direi è più anni 80 90 e anni zero che direi che agli antipodi e all'opposto della prima modalità e in un certo senso storicamente è una reazione agli anni 70 e sono tutti progetti poetici di scrittura molto diversi anche tra loro ma che sono simili in quanto post modernamente iper carichi di cultura stilisticamente manieristici che recuperano anche in modo nevrotico e sistematico la tradizione recente o meno recente che invece gli anni 70 avevano rifiutato dimenticato fatto finta anche di dimenticare a proposito appunto di ipercultura di questi progetti proprio simbolicamente allo scoccare del decennio 80 1980 e 1982 due libri importanti hanno titoli in latino ad esempio valerio magrelli ora serrata retine patrizia balduga medicamenta oppure penso sempre questa modalità anni 80 90 eccetera penso alla cosiddetta poesia neometrica le cui teste di serie sono ad esempio di nuovo patrizia balduga oppure da un'altra parte diverso ma simile il napoletano gabriele frasca in questo tipo di poesia neometrica tornano in auge le forme metriche chiuse del passato cioè sonetti sestine canzoni ma non canzoni rock canzoni fatte da dante o petrarca o la terza rima della commedia dantesca e con esse endecasillade rimi e anche lessico antico o si ripristina addirittura le parole come amor e cor anziché amore cuore ecco tuttavia in queste forme diciamo così plasmate dai classici queste forme vengono sfigurate e sfregiate da contenuti dichiaratamente e platealmente anticlassici e contemporanei faccio il caso di patrizia balduga sempre le sue poesie sono quasi tutte poesie d'amore vagamente di stampo petroarchesco però sono sfregiate da una quota ingombrante abbondante di pornografia oppure gabriele frasca sonetti sestine eccetera ma contenuti schiettamente che riguardano la cultura pop di massa quindi televisione eccetera eccetera fino al trash per citare uno di loro si potrebbe dire che questa operazione mette in corto circuito mette in corto circuito la trascendenza delle forme antiche delle forme poetiche classiche e la trash endenza dei contenuti contemporanei e vi faccio un esempio solo di questo cozzo prendiamo una rima di patrizia balduga ma che si scambia anche con frasca petrarca dante facevano rimare perde con verde patrizia balduga ci associa anche merde tanto per farci capire ecco allora dato che ovviamente queste due modalità come ho detto non esauriscono il piano la mappatura la cartografia della poesia italiana contemporanea ma ci sono di mezzo molti progetti molto più interessanti ma che non è facile in due parole trattare e descrivere me la cavo diciamo così per concludere con una sorta di playlist di consigli di lettura su quelli che per me ma insomma non solo per me sono i migliori libri di poesia dagli anni 70 oggi e allora il primo innanzitutto l'ordine non è diciamo così di merito però direi che il primo sì il primo consiglierei tutte le poesie del milanese milo de angelis che sono pubblicate da mondadori per me milo de angelis è il montale dei nostri decenni oppure leggete senz'altro come diceva federico fellini quando è uscito il libro leggete ora serrata rettine di valerio magrelli oppure tutte le poesie di ferruccio benzoni che verranno stampate tra poco per marcosi marcos leggete tutte le poesie di umberto fiori che sono uscite per gli oscar mondadori oppure tutto mario benedetti per rizzoli infine altre tre finisco la raccolta ritorno a planaval di stefano dal bianco e la raccolta dal balcone del corpo di antonella anedda tutti e due questi libri vengono pubblicati nella prestigiosa collana dello specchio mondadori prestigiosa perché sono stati pubblicati montale ungaretti e così infine tra le uscite più recenti del 2017 io consiglierei che un libro per me molto bello la raccolta di guido mazzoni la pura superficie